Diamo il benvenuto al professor Giorgio Vittadini che è presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Benvenuto. Grazie. Allora partiamo dal tema della 42esima edizione del Meeting che è una passione per l'uomo. Dove troviamo o a questo punto ritroviamo visto il difficile periodo storico la fiamma di questa passione? La troviamo in due aspetti legati. Il primo il cuore di ogni uomo perché ogni uomo ha un desiderio di verità, di giustizia, di bellezza che se non è ridotto abbraccia gli altri uomini. Ma questo si esprime soprattutto in quell'attività di tipo sociale che fa il terzo settore, che fa l'economia non profit, l'economia civile, che è diffusissima in Italia e anche in Europa. In Italia sono 375 mila enti con 4 milioni di persone. Cosa abbiamo dimostrato con il rapporto della Sussidiarietà di quest'anno della Fondazione Sussidiarietà? Anche con l'aiuto dell'ISTAD abbiamo dimostrato che quando si fanno queste attività aumenta il tasso di occupazione, diminuisce la mortalità evitabile, il rischio di povertà, aumenta il tasso di occupazione e quindi vuol dire che c'è un cuore dell'uomo, una passione per l'uomo che migliora la vita dell'uomo. Questo è quello che l'Europa dovrebbe fare dappertutto.